Una parte della minoranza al comune di Campobasso sul piede di guerra è molto critica con le scelte operate dal sindaco Antonio Battista, dalla sua giunta e dalla maggioranza che lo sostiene. Sono i consiglieri del polo civico che non riescono a comprendere l'esigenza di nominare il top manager del comune, un'operazione che costa in termini economici davvero tanto e che mostra a loro parere tutta una serie di anomalie e alcune illegittimità anche di natura etica. Questa mattina conferenza stampa al comune di Campobasso. Parliamo di un incarico di circa 160-170 mila euro che per un'amministrazione comunale che ha tassato i cittadini con somme cospicue, pensiamo alla Tasi, alla Tari eccetera, insomma è un po' tanto. Ma soprattutto nelle procedure che la cosa non ci convince, infatti informeremo la Corte dei Conti su questo procedimento dell'amministrazione e dell'aggiunta Battista, soprattutto per quanto riguarda appunto lo storno dal fondo di riserva. La legge è molto chiara, invita le amministrazioni a prelevare da quel fondo soltanto per situazioni emergenziali. Innanzitutto non possiamo avere un top manager perché la legge lo impedisce ai comuni con popolazione inferiore a 250 mila abitanti. Nel nostro caso hanno creato un'area ad hoc, questo è il fatto grave, quindi un dirigente è coordinato, la legge è equiparato, quindi anche sotto l'aspetto della contribuzione. Hanno aggiunto ulteriori cifra di 51 mila euro ad persona, ma questo è un altro fatto grave, senza obiettivi di risultato. Non hanno specificato, ti do questo in virtù del fatto che mi hai fatto raggiungere questo obiettivo, lo danno a monte. E questa è un'altra anomalia. E il fatto stesso che si preveda, ripeto, una figura di coordinamento, presuppone che non c'è questo coordinamento ad oggi. E quindi la dice lunga sull'amministrazione. Se proprio il centrosinistra voleva candidare qualcuno, candidava Jacopo Bucci e no Battista. Siccome c'è un uso...